L'attrice della Fortuna serie lo scorso sabato ha detto si lo voglio al fidanzato Wells Adams. Fiori d'arancio a Modern Family, e questa volta non si tratta di finzione. A dire, si lo voglio, è stata Sarah Island, meglio nota per il suo ruolo di Ailey Dunphy nella serie televisiva americana. L'attrice il 20 agosto ha sposato il DJ e personaggio televisivo Wells Adams, con cui fa coppia fissa dal 2017. Il matrimonio è stato celebrato all'aperto, nei giardini della Sunstone Winery a Santa Inez, in California. Ad ufficiare le nozze niente di meno che Jesse Tyler Ferguson, l'attore che nella Fortunata serie interpreta Mitchell Pritchett, zio di Ailey. L'uomo ha rivelato su Instagram di aver celebrato lo scorso sabato il matrimonio della collega e il neo marito. Ho avuto il miglior posto in casa per questo sbalorditivo matrimonio. Che onore sposare i miei due cari amici Chiocciola Sarah Island e Chiocciola Wells Adams, ha scritto l'attore, 46 anni. Ferguson non è stato l'unico membro del cast di Modern Family presente al grande giorno di Sarah. Tra gli invitati anche Sofia Vergara, Gloria, Julie Bowen, Claire Dunphy, Nolan Gould, Luke Dunphy, e Ariel Winter, Alex Dunphy, in un'improvvisata reunion che ha mandato in visibilio i fan della serie. Oltre gli attori dello show presenti anche molte celebrità statunitensi, come Nick Vial e Vanessa Agens. Per il suo grande giorno Sarah Island ha scelto ben due abiti firmati Vera Vang. Per la cerimonia l'attrice ha optato per un vestito da ballo in fai di seta color avorio chiaro con scollo a cuore, un corpetto plissettato cucito a mano e un ampio spacco sulla gonna. Per il ricevimento la Island ha invece sfoggiato un abito bianco in crepe con scollo drappeggiato e pizzo macramè, arricchito da maniche in tulle drappeggiate. Grazie mille! Grazie a tutti.